Una denuncia alle procure della Repubblica di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valencia nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per appropriazione in debita e speculazione da agiotaggio con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incammerati solo nell'ultima settimana. E l'iniziativa portata avanti anche in Calabria dal Codacons per il caro Carburanti che scritto in una nota nel corso dell'estate ha flagellato gli spostamenti di cittadini con un atto finalizzato a denunciare l'incredibile paradosso rappresentato dai maggiori incassi per lo Stato derivanti sotto forma di accise dall'aumento dei prezzi della benzina e del gasolio e a far sanzionare pompe e grossisti responsabili di speculazioni. Contestualmente infatti la denuncia è anche nei confronti delle pompe e dei grossisti. Il Codacons si legge nella nota ricorda come gli effetti deleteri della decisione di non rinnovare lo sconto da 30 centesimi sulle accise per il 2023 fossero già stati noti da mesi in calza il governo anche sulle promesse elettorali più volte diffuse da parte dei suoi esponenti. Nonostante le promesse infatti non c'è traccia dell'atteso taglio delle accise e proprio le tasse sulla benzina rappresentano l'ammazzata finale che in questa infinita estate sta colpendo il portafoglio degli italiani con conseguenze dirette e indirette. Un'incongruenza non certo unica della quale il governo a breve si troverà a rispondere in termini di consenso di assenza di soluzioni alternative a tutela degli automobilisti. L'associazione vuole anche capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini. Per farlo richiede ancora una volta controlli e sequestri presso gli impianti che vendono la benzina a prezzi che si discostino eccessivamente da quelli medi.